Buonasera, siamo qui a SMAO dopo il mio workshop su Twitter per le aziende, che è andato molto bene, anche perché Twitter è il tema del momento. Le aziende possono approcciare nuovi mercati, comunicare i propri prodotti e servizi tramite quello che è uno dei canali più versatili e soprattutto più analizzabili tra i social media. Noi come Wevo mettiamo sempre Twitter come social tra le strategie che prepariamo per i nostri clienti, proprio per le sue caratteristiche di internazionalità e la sua duttilità come utilizzo di canale. Wevo si occupa di comunicazione web per l'internazionalizzazione delle imprese, quindi sito web, social media, web advertising, newsletter e proprio volti ad approcciare nuovi mercati.